Abbiamo realizzato il nostro sogno, quindi il reparto di ematologia dell'ospedale di Sondrio. Finalmente avremo un reparto a Sondrio, finalmente i nostri ematologi potranno sostenere tutti i valtellinesi, quindi ematologi preparati, ematologi che hanno fatto master, borse di studio, sempre finanziate da Lail. Quindi tutti i valtellinesi d'ora in avanti sapranno esattamente dove andare. Non ci sarebbe stato un modo migliore per festeggiare il trentennale dell'Ail a Sondrio. Da lunedì 15, anche se il taglio del nastro è di stamane, al terzo piano del padiglione est dell'ospedale di Sondrio sono aperti gli ambulatori dell'unità operativa dipartimentale di ematologia, dove i pazienti si sottoporranno alle terapie oncologiche. A farsi carico di gran parte delle spese di ristrutturazione degli spazi, oltre che degli arredi, è stata appunto l'Ail provinciale. Devo ringraziare veramente di cuore per questa giornata di Letizia Ail, l'Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi, che non solo ci supporta, direi quotidianamente dal punto di vista spirituale, ma di questa struttura direi il tenutario, perché quasi tutto è stato pagato da Ail. I nuovi spazi assicurano più alti livelli di comfort rispetto al passato e una migliore gestione dei pazienti che accederanno all'ambulatorio. Pazienti con malattie del sangue che anche in provincia non sono affatto pochi. Facciamo circa più di 6.000 visite l'anno in tutto il territorio valtellinese, comprensivo ovviamente dei presidi periferici, più di 3.000 visite l'anno soltanto nel presidio di Sondrio. L'area ambulatoriale dell'ematologia occupa l'ala in passato riservata all'addigenza oncologica. Ambienti rinnovati e servizi igienici ammodernati si aggiungono alla sala d'attesa dedicata per garantire tranquillità e riservatezza ai pazienti ematologici. Le nuove attrezzature comprendono lettini da visita, poltrone e letti completamente elettrificati e semoventi e monitor multiparametrici. Quello che vedete qua, che è bellissimo veramente, che è fonte di felicità, è la punta dell'iceberg, perché AIL, quando si ha bisogno, aiuta in solito anche i pazienti che a causa delle loro malattie ematologiche possono trovarsi in difficoltà economiche. E credo che questo sia impagabile, bellissimo e di questo ringrazio tutti gli splendidi volontari che partecipano alla raccolta di fondi. A tagliare il nastro l'impareggiabile e insostituibile Presidentessa Emerita della sezione AIL di Sondrio, Adelia Martinelli Carini, cui la struttura è intitolata. Spero che questa prestigiosa dedica mi allunghi la vita, già che di solito questo tipo di attenzione si rivolge a persone scomparse. Questa dedica devono essere considerati inclusi tutti i nomi dei supervolontorosi volontari dell'AIL provinciale, che sono la vera anima della solidarietà e dell'umanità di questa grande organizzazione. Una grande organizzazione che merita di essere più che mai supportata. Mi permetto di raccomandare ai convaldigiani che quando per Natale o per Pasqua troveranno i gazebo per strada, non si voltino indietro, vadano, comprino, diano, collaborino a questa situazione di cosiddetta charity, perché non sente, non viene stornato da quello che si raccoglie e tutto rimane in Valtellina.